Siamo negli studi di TM News per parlare con il Presidente dell'Enac, Vito Rigio, di un memorandum di cooperazione firmato tra l'Enac e l'ente dell'aviazione civile degli Stati Uniti. Presidente, in che cosa consiste questa intesa che avete sottoscritto? Tutto nasce da una direttiva del Presidente Obama che ha chiesto al sistema dell'aviazione americana di continuare a sviluppare le ricerche che si erano accumulate con lo shuttle. Finito il programma shuttle il Presidente ha chiesto all'industria di andare avanti con l'assistenza della NASA che ha un'enorme esperienza e alla Federal Aviation Administration che è il nostro gemello americano, gemello maggiore diciamo in termini di dimensione, di trovare anche dei partner per cominciare a riflettere sulle regole che sono necessarie per completare o accompagnare la sperimentazione industriale. Noi siamo molto lusingati del fatto che la FE con la quale c'è una lunga storia di collaborazione abbia pensato a noi per primi e quindi siamo andati a sottoscrivere questo primo atto di cooperazione che si svilupperà nella direzione delle regole insieme a NASA e all'industria via via che la sperimentazione industriale andrà avanti. Quindi è un traguardo importante per l'Italia ma che tipo di scenari si aprono per l'industria del nostro paese. Ma guardi noi abbiamo anche a Washington c'era questo workshop, hanno partecipato delle industrie sia pubbliche che private italiane che noi pensiamo di radunare in un consorzio da concentrare possibilmente sull'aeroporto di Grottaglie dove è già iniziata una cooperazione industriale importante con Boeing per fare lì o altrove insieme all'aeronautica militare le sperimentazioni ovviamente in una partnership con gli americani che sono più avanti e soprattutto hanno anche una dimensione di investimento più significativa. Quindi noi accompagneremo questo processo che ha bisogno dei suoi tempi ma che insomma potrebbe mettere a capo una vera rivoluzione intanto nel trasporto delle merci. È possibile in futuro prevedere oltre al trasporto commerciale anche un trasporto umano suborbitale? Guardi siamo ovviamente molto lontani perché un conto è parlare di accelerazioni, di gravità e di materiali per il trasporto merci, un conto è per le persone ordinari. Gli astronauti ci sono andati, noi abbiamo anche 5 astronauti italiani uno dei quali sta collaborando attivamente al progetto. Ovviamente non siamo ancora nella condizione di dire se e quando si potrà parlare di trasporto di persone. Per il trasporto merci anche se ci sono molti problemi, siamo già più avanti e quindi cominciamo intanto a vedere se è possibile per esempio trasportare le merci dalla Sardegna alla California in meno di due ore che sarebbe un risultato eclatante ma che sarebbe alla portata utilizzando quel tipo di mezzi.